Ciao a tutti! Vorrei presentare a me con questo videoclipo per farvi capire a me. Sono Renato Pace e prima di tempo vi metterò nel workshop di Erasmus sull'e-learning. Sono un guitarista e insegno a l'instituto Bellini, una scuola musica di musica in Caltanissetta, Italia. Sono interessato in nuove tecnologie per molti anni, con particolari referenze a i suoi metodi musici e le insegnamenti. Quindi ho studiato alla Università di Florence in metodità e tecnologie per l'e-learning. E ho studiato questa attività nella mia scuola. benvenuti. Benvenuti a mio Moodle, una plateforma dell'e-learning che ho preparato per voi per farvi per farvi familiarizzare con questo ambiente. per l'e-learning. Please, begini la tua attività con il tuo profilo, scrivere qualcosa sulle di teore e sulle foto per farvi per farvi vedere la tua vita. per farvi